Ciao Grazie 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 caglio amia maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetta è il frutto del tuo seno Gesù si è fatto no? amia maria benedetta fra le donne benedetta è il frutto del tuo seno Gesù è successo qualcosa non lo so hanno abbassato la madonna qualcuno ha abbassato perché qualcuno vuole donarle qualcosa probabilmente si riesce a zoomare non possiamo andare guardate guardate che si vede bisogna andare a qualcuno guarda vedete che con la zoomata ti sfuggi lo schieno oro oro con una linea d'oro secondo me siccome hanno una ragazzina malata è amm 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 Anche con la Madonna questa. Non era forse da un bambino. No.